Carlo e Camilla, Ferri e Megan, tutti vicini a Kate Middleton nella sua battaglia contro il cancro. Ondata di affetto e amore per Kate Middleton dopo il video e l'annuncio del cancro. Un messaggio anche da Ferri e Megan, Re Carlo parlerà molto presto. E, un periodo decisamente complicato per la famiglia reale. Poche settimane fa Re Carlo ha annunciato con un comunicato ufficiale, al mondo intero, di avere un cancro. Una condizione decisamente diversa però, da quella di Kate Middleton. Re Carlo infatti, ha iniziato le cure ma si è anche subito mostrato in pubblico, probabilmente perché le sue condizioni di salute glielo permettono. Kate invece, dopo aver subito un importante intervento all'addome, è ancora in fase di ripresa e ha iniziato anche, come ha fatto sapere nel video che ha colpito il mondo intero, di aver iniziato anche una chemioterapia preventiva per la lotta contro il tumore. In queste ore, davvero l'ondata di affetto per Kate Middleton è stata travolgente. Grande sconcerto è chiaro, perché è una donna giovane, è mamma di tre figli e non ci si augura mai che si debba affrontare una battaglia complicata come quella contro il cancro. Ma Kate è forte e lotterà con tutte le sue forze. I messaggi della famiglia reale per Kate Middleton. Dopo il video, che finalmente ha messo a tacere tutte le teorie del complotto che avevano preso piede nell'ultimo mese, sono arrivati invece i messaggi di amore e affetto anche da parte della famiglia reale per Kate. Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia, e speriamo che questo possa accadere nel rispetto della loro privacy e in pace, hanno dichiarato Harry e Meghan. Re Carlo, invece, ha fatto annunciare che presto rilascerà una comunicazione pubblica. Al momento si è dichiarato, molto orgoglioso di Catherine per il suo coraggio nel parlare come ha fatto, e rimane in, stretto contatto con la sua amata nuora. Lo ha fatto sapere Buckingham Palace. Sia il re che la regina continueranno a offrire il loro amore e il loro sostegno a tutta la famiglia in questo momento difficile. Kate Middleton dal canto suo ha fatto capire che era necessario fare questo video per mettere a tacere tutte le illazioni ma chiede ad esso anche rispetto e privacy visto che per lei, arriveranno mesi decisamente complicati. Non siete soli. Kate Middleton incoraggia chi come lei combatte contro il cancro. L'annuncio di Kate Middleton ha fatto il giro del mondo. La principessa combatte contro un cancro e trova le parole per dare un incoraggiamento a chi come lei, sta affrontando questa battaglia. Ha fatto il giro del mondo. Ieri il video di Kate Middleton. La principessa del Galles dopo tre mesi ha rotto il silenzio e per la prima volta si è anche mostrata. Ha il cancro. Lo ha annunciato con un discorso di circa due minuti durante il quale ha spiegato che a gennaio, quando si è sottoposta all'intervento, sperava che non ci fossero notizie più gravi. E invece i test successivi hanno dato esiti negativi. La principessa dunque, ha scoperto di avere il cancro, anche se nel video, non viene specificato che genere di tumore l'abbia colpita. Kate ha solo detto che ha iniziato una chemioterapia preventiva e che combatterà con tutte le sue forze. Accanto a lei, William, che è la sua forza e poi i suoi figli, che le danno il coraggio di andare avanti e lottare, per tornare a stare bene. Le parole di Kate Middleton per chi come lei combatte contro il cancro. Nel breve video, diventato virale in pochissimi minuti, Kate ha un pensiero anche per tutte le persone che come lei stanno lottando contro un tumore. Il mio lavoro mi ha sempre portato un profondo senso di gioia e non vedo l'ora di tornare quando potrò, ma per ora devo concentrarmi sul recupero completo. In questo momento penso anche a tutte quelle vite colpite dal cancro. Per tutti coloro che affrontano questa malattia, in qualunque forma, per favore, non perdete la fede o la speranza. Non siete soli? Kate Middleton ha il cancro. Il commento del suo portavoce? La principessa ha voluto condividere queste informazioni quando lei e il principe hanno ritenuto che fosse giusto per loro come famiglia. Le loro altezze reali comprendono l'interesse che questo aggiornamento susciterà e sono grati per il sostegno pubblico che hanno ricevuto durante questo periodo. Kensington Palace fornirà informazioni, quando sarà il momento giusto, e la principessa potrà riprendere il lavoro e i suoi doveri. Nel frattempo, chiediamo che la privacy della famiglia sia rispettata. La principessa tornerà ai suoi doveri ufficiali quando sarà autorizzata a farlo dal suo team medico. È di buon umore ed è concentrata sul recupero completo. Ombra seria e grave sulla monarchia. Le parole di Caprarica dopo il video di Kate Middleton. Anche Antonio Caprarica parla della malattia di Kate Middleton ed è molto preoccupato per la principessa, ma anche per la monarchia. Antonio Caprarica è tornato a parlare di quello che è successo a Kate Middleton e nelle ultime ore all'Ancronos ha spiegato quello che è il suo punto di vista. In queste settimane si è detto di tutto, le teorie del complotto non sono mancate, e come ha fatto notare più volte il giornalista, la famiglia reale non ha gestito al meglio la situazione. Ma oggi appare evidente che di fronte a una notizia così seria, come quella della malattia della principessa di Galles, si sia badato più ad altro che a pensare a quella che sarebbe stata la reazione del mondo intero. Caprarica su Kate Middleton. Ombre gravi sulla monarchia. Poche ore dopo il video con le parole di Kate Middleton, Caprarica ha dato il suo punto di vista. L'annuncio della principessa Kate Middleton chiarisce molti punti. Anche perché inizialmente Kensington Palace aveva precisato che non si trattava di una malattia oncologica. In realtà, ora lei ha chiarito che c'è stato un prelievo di tessuti e un esame istologico ha rivelato purtroppo la presenza del cancro. Nel video Kate non dice molto sulla sua malattia ma il giornalista ha fatto notare che se il tumore fosse all'intestino, non sarebbe una situazione semplice da gestire. Caprarica ha spiegato. Se si tratta di un tumore all'intestino, è una situazione molto grave. Si comprende quindi perché questa povera disgraziata abbia chiesto un po' di rispetto, anche per preparare e per spiegare la situazione a tre bambini piccoli. Sul piano personale sono profondamente rattristato. Tutta la situazione è stata gestita in modo pessimo. Probabilmente bisognava preparare meglio sin dall'inizio in modo graduale il popolo. E poi ha concluso. La monarchia al momento è uno spettacolo che poggiava su due star. Re Carlo e la principessa Kate. La notizia della malattia di entrambi, che naturalmente tutti auspichiamo sia curabile in entrambi i casi, getta un'ombra molto seria e grave sulla monarchia. Prova a sorridere Kate Middleton nel video in cui annuncia al mondo intero di avere il cancro. Sorride quando parla dei suoi figli e di come lei e William abbiano cercato di rassicurarsi in questo momento non facile. Kate si è presa del tempo per le sue cure, ma soprattutto per spiegare ai bambini che sta bene e che vuole tornare a stare bene. Il video con le parole di Kate Middleton che annuncia a sudditi di sua maestà, ma anche al mondo intero di avere il cancro, è già virale e se ne parla davvero ovunque. Visibilmente dimagrita, con il volto scavato e anche turbata, per quanto abbia cercato di camuffarlo, Kate ha spiegato che dopo l'intervento all'addome, i test fatti, hanno rivelato che avesse il cancro. E da quel momento è iniziato un percorso di cure, con una chemiopreventiva che i medici le hanno suggerito di fare. Nel frattempo lei e William hanno cercato in tutti i modi di tutelare la privacy della famiglia, per spiegare a Charlotte, Lua e Georgia quello che stava succedendo. Questa volta Kate ci ha messo la faccia. E sembra che fossero vere quindi le indiscrezioni della BBC, che era stata messa in allerta per l'arrivo di una notizia molto importante. Per evitare ogni genere di errore di comunicazione, questa volta Kate Middleton, è comparsa in un video che non è passato per la stampa ma è stato pubblicato direttamente sui canali social della famiglia reale. Kate, nel video ha spiegato. Si è trattato ovviamente di un grande shock, e William e io stiamo cercando di fare di tutto per gestire questa mia condizione in modo privato, per il bene della nostra giovane famiglia. Come potete immaginare, questo richiede tempo. Il tempo di riprendermi dall'operazione, il tempo per iniziare le cure. E soprattutto il tempo di spiegare tutto ai nostri bambini, in un modo per loro comprensibile, e per rassicurarli del fatto che tornerò a stare bene.